Riposo attivo. Il bello comune di Letnica propone una serie di possibilità attraenti per il riposo attivo dei suoi visitatori. Troverete numerose proposte per diversi interessi per passare il vostro tempo libero. Per gli amanti delle esperienze estreme c'è la possibilità di vedere la pianura dall'alto del cielo. Se lo volete potete fare un volo con deltaplano. Se non vi piacciono le avventure ma siete amanti della natura potete fare una passeggiata per uno degli eco itinerari. Scoprirete la bellissima natura, le rovine antiche e tracce della storia secolare di questa zona. Oppure semplicemente passerete un tempo piacevole facendovi un picnic tra il verde o forse vi sentite a vostro agio galoppando sulla schiena del cavallo e intorno corrono delle cerve mentre dai rami degli alberi cade la neve e i raggi del sole scompaiono dietro l'orizzonte. Un altro divertimento antico che potete provare è il tiro con arco e se preferite i metodi più moderni anche con fucile. Potete visitare una delle grotte meravigliose nella zona o semplicemente godervi la natura. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!